Motivo numero 4 per dire ci vediamo a Mido anche quest'anno, lunedì 29 febbraio alle ore 12 presso l'Otticlub terrò un workshop gratuito che parla di visual storytelling, un argomento nuovo che è la prima volta che porto all'interno del Mido, in realtà è la prima volta che dedico questi temi proprio in modo specializzato al settore dell'ottica, ho voluto sintetizzare e raccontarvi in questa oretta insieme come si può utilizzare l'immagine, il video, la fotografia, sia come elemento di esperienza sul punto vendita, sia come mezzo per raccontare la propria storia. In un'epoca in cui tutta la comunicazione viaggia sul digitale e in particolar modo tutta la comunicazione passa attraverso il social media per fare engagement, ovvero per coinvolgere in maniera efficace il proprio mercato, i propri clienti, i propri contatti, è necessario saper utilizzare questi strumenti in maniera efficace, diretta e soprattutto memorabile. E quindi in quest'ora vi racconterò quali possono essere le tecniche e le strategie che si possono utilizzare per la propria comunicazione aziendale, in particolar modo per i centri ottici, vi racconterò alcune delle esperienze che ho realizzato insieme ai miei collaboratori durante quest'ultimo anno e vedremo insieme quali belle cose si possono fare, quanto affetto si può trasmettere ai propri clienti e quanto importante può diventare la relazione dei clienti con il nostro centro ottico proprio utilizzando questi sistemi. Quindi registrati subito sul sito del Mido nella pagina di Otti Club al mio workshop sul Visual Storytelling lunedì 29 febbraio alle ore 12. Io ti aspetto!